Guarda che bello questo ambagno. Però, vai da un vetro. Non è pure, non è pure. Ma lo vede così, ma lo vede così. Senti, aspettiamo un massone. Lecce! Lecce, solici tu! C'è Marino. Ma la perelle è? No, è Spezzano. Spezzano! Ciao! Spezzano! 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 E' l'elica. Raga, un minuto di silenzio, raga. Ma stai scipiole tra i ragazzi. Ma che vuole? Sì, sopra! Se può fare anche la mia il 속ale. E che ci si può fare anche la mia. Aspetto, la mia voce è la mia. Eh, io gli hovo io stato un po' di 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 uno. Cosa faccia! Bebata! Grazie. Dario. Però è zitto. Andiamo a mancare con papà. Bravo. In questo campo fanno una coppia di romanzo e non prendono. Non c'è un piede. Ci preparano un manco di mesi. Ci preparano i corsoni. Ci sono le manci. 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 aspetta un attimo che non devo fare qualche politica mi mette a piovere di brutto eh davvero? non si vede proprio ma piove ma piove pure cazzo pure il giocatore pure il giocatore ma che stasso ma non è, ma non è ma non è, ma non dove prendo il giocatore ma guarda su su, ti chiamo le case Maria devi addosso no, sono un bello, tre c'è sopra no, tu mi sci mi tritando vai dieci vai dieci a me dieci, c'è Marcello non ho perché lì dieci E' un amore del nome! Dieci! Mamma Cacimino! Chi è Cacimino? Maurizio fai gol! Maurizio! Maurizio fai gol! Marcello fai gol! Marcello! Eccomi in vai! Calzi! Ma io non c'è l'uomo! Ah! Io lo nemmeno! Non c'è l'uomo? Per me i tizio non mi conmenta! Ah! Mi hai bevuto l'uomo! E' un po' cione! E' un po' questa è la camera! Passa la camera, facciamo? Vi lo capi! E' uno vero? Te lo posso dire una cosa? Perché non mettiamo una telecamera più di qua? Questa che vuoi parlare? Più da questa parte! eh ah ah bello andone ma si ma tu ballonzi è pazzo questo ognuno lo so ma quando è? eh vero mamma mia che tu di essere sotto che è? ma io lì su pallone ma che è tu? ma che è tu? ma sono i miei agenti ma sono i miei agenti ma sono i miei agenti oh Lugio dove è salvato il posto? a festa dove è salvato il posto? ah no ma è bello ciao ciao ci sono i miei agenti ma io sono i miei agenti ognuno lo so ognuno lo so a ognuno lo so ognuno lo so ognuno lo so ma sentite? Non ti fanno male gli occhi, poi. Mamma mia. Mamma mia. Si si muove, abbatta. Mamma mia. Spiegati, ma secondo te si asciuga il gioco. Ma che fallo? Ma che fallo ne avete? Vabbè, c'è il suo costo davanti. Non lo miro, però. C'è il suo costo davanti al giro. Continuito a allenare. Un po' la screvo a stare in giocato. Mi non sono fischato. Ma sono fischato alla tricura e la mancola. Eh, ma no. Eh, io sto solo fuori in giocato. Ma danno, l'altro, l'amica. Potrò salire il gioco sotto la vota. Non puoi prendere la scorsa. È più avanti? Un po' il suo portiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. 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 L'arbitro è una pallina volante. Grazie a tutti. 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 a tutti.